cari amici di youtube oggi voglio parlarvi della mia incubatrice novita al cova tutto 24 digitale una macchina affidabile come la sorella minore 24 eco ma con qualche dettaglio in più che la rende unica nel catalogo delle 24 uova potrete già vedere dal video il contenuto della confezione c'è l'incubatrice divisa in due parti i manuali e gli accessori che andremo a montare iniziamo con la vaschetta dell'acqua indispensabile per mantenere una corretta percentuale di umidità all'interno dell'incubatrice questa vaschetta si monta all'esterno così per i rabbocchi non apriremo l'incubatrice evitando di sballare i parametri al suo interno compromettendo il corretto sviluppo degli embrioni la vaschetta inoltre è dotata di un coperchio trasparente per visualizzare il livello dell'acqua residuo e per evitare che gli insetti ne siano attratti dopodiché montiamo la griglia sul fondo dove verranno sistemate le uova alla griglia avviteremo la leva blu che ci consentirà di voltarle con un semplice movimento è possibile acquistare a parte un giro a uovo elettrico per rendere questa operazione totalmente automatica le plastiche che compongono questa incubatrice sono molto resistenti ottime finiture e qualità delle componenti faranno sì che questa macchina ci accompagni per svariati anni senza perdere mai un colpo inoltre la cova tutto 24 digitale è coibentata tecnica costruttiva essenziale per evitare dispersioni di calore per renderla più silenziosa e per garantire risultati veramente ottimi vediamo adesso il funzionamento del gira uovo manuale le guide in pvc rimovibili garantiscono un alloggiamento delle uova di diverse grandezze tirando o spingendo la levetta dall'esterno si ha una rotazione delle uova operazione indispensabile da ripetere più volte al giorno nel coperchio superiore c'è il cuore pulsante della macchina infatti troviamo la resistenza riscaldante e la ventola in alluminio leggera e silenziosa che propaga in modo uniforme il calore una volta montata la cova tutto si presenta così una macchina performante da utilizzare sia in casa per vivere l'emozione della schiusa in famiglia o in un piccolo allevamento hobbistico dove dà il meglio di sé il rivestimento superiore in plexiglas trasparente vi consente di monitorare cosa succede al suo interno i manuali in dotazione inoltre contengono ottimi consigli e guide per l'incubazione artificiale il display digitale vi dà la possibilità di regolare la temperatura per consentirvi di incubare ad esempio uova di rettili tre piccoli indicatori sulla sinistra vi ricorderanno o di girare le uova o di rabboccare l'acqua o di prepararvi all'imminente schiusa una volta impostati tutti i valori troverete comunque tutte le informazioni su questa procedura sui manuali in dotazione se la recensione è stata di vostro gradimento lasciate un bel mi piace un commento e condividetela sui vostri profili social vi lascio il risultato che otterrete con questa fantastica macchia un abbraccione dal vostro amico emanuele